Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando Di nuovo insieme, buongiorno, buon sabato, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, pronto a collegarmi subito con il ristorante Le Palme Che lo sapete in modalità estiva, quindi è il bagno Le Palme di Marina di Caralla dove c'è lo chef, Alessandro Bandoni, buongiorno Ale Ciao Andre, buongiorno a tutti E anche il maître, Nicola Dennero, buongiorno Nico Buongiorno Andrea, buongiorno Ale, anche se Ale gli ho già dato il buongiorno Eh vabbè ragazzi, siete insieme I nostri ascoltatori Allora come Manca solo dormire insieme e poi noi d'estate facciamo Anche no, eh Ecco, facciamo anche no Ecco, perfetto Allora Ale, stamani ho visto dalla schermata che fai una ricetta proprio leggera Cioè una roba proprio così Un oggino alle nocciole, tranquillo Ah, una roba tranquilla Dennero, è proprio una roba estiva la nocciola, vero? Cioè, la nocciola Bandoni, non è uno che si cerca Ieri sera ha fatto la torta di riso Cioè, avevo detto Stiamo a riparare due dolci, due semipreddi Ma ha fatto la torta di riso Ragazzi, ma è, allora, vi dico una roba Quando vado a mangiare il gelato io mangio nocciola estate, autunno, inverno Quindi non è un problema Cioè nel senso Quindi va bene, va bene, va bene, va bene Dai, vediamo gli ingredienti per la torta alla nocciola Secondo, Alessandro Bandoni 350 grammi di nocciole 4 uova 100 grammi di zucchero Allora Noi prendiamo i 350 grammi di nocciole Li frulliamo tutti Ok 100 grammi li mettiamo da parte Ok Poi prendiamo le 4 uova Aspetta, vuole dire qualcosa Cos'è che hai detto? 5 ciocco, li mettiamo via Ah, ok, non l'avevo capita, scusate Poi prendiamo le uova, le separiamo Sì I tuorli, 4 ovviamente abbiamo detto Li mettiamo a montare con lo zucchero Una volta montati Li mettiamo da parte, anche questi in frigorifero Perfetto Montiamo i bianchi Una volta montati i bianchi con un pizzico di sale Li andiamo ad aggiungere ai tuorli Dall'alto verso il basso Per non smontarli Perfetto Aggiungiamo i 250 grammi di nocciole Sempre dall'alto verso il basso Mettiamo nella tortiera tra i 26 e i 28 centimetri Azioniamo il forno a 160 gradi E in superficie ci versiamo i 100 grammi di nocciole Che avevamo messi da parte 40 minuti in forno e via, pronta Il gioco è fatto Cioè ragazzi Bandoni fa tutto semplice È veramente così Va bene, la torta ve l'abbiamo data Lo sapete però il sabato Ampio spazio al vino, al moscato In questo caso Visto che vedo una bottiglia di moscato Lo dico vedo perché siamo anche in diretta su YouTube Lo dico agli amici che ci stanno seguendo alla radio Dalla quarantena noi siamo anche in diretta Quando andiamo in diretta Sul nostro canale YouTube Basta cercare Radio Nostalgia Del Nero Che cosa ci hai preparato stamattina? Allora Non poteva che essere il moscato stamattina Perché comunque Ale ha presentato le nocciole Un dolce alle nocciole E come sapete le nocciole più buone Sono un presidio slow food Nella provincia di Alba Perciò Oltre ad essere una zona conosciuta Per dei vini fantastici È anche una zona conosciuta per le nocciole Tanto che La Nutella arriva da lì Cioè non è Quello il nostro Sì poi c'è la polemica Sul fatto che usiamo nocciole dalla Turchia Però questa è un'altra cosa Troppo non bastano per la produzione di Nutella Non è che non usano le nocciole italiane Usano anche le nocciole piemontesi Ma per accontentare Per la produzione Che è una produzione mondiale Anche comprare da altre zone Eh sì ragazzi Perché non dimentichiamoci Che la Nutella La mangiano anche Che ne so In Australia c'è dall'altra parte del mondo In tutto il mondo c'è la Nutella Ci sono anche gli alberghi della Nutella Fate voi È impensabile che si possa produrre la Nutella Solo con nocciole italiane Certo Solo con nocciole piemontesi Comunque se andate nella zona di Alba Guardate perché oltre a vedere Dei bellissimi vigneti Vedete anche dei bellissimi campi Di piante di un'acciola Sono veramente veramente belli Poi è una zona tenuta molto bene È veramente bello da girare E da assaggiare Quello che quella zona ci può Ma vediamo C'hai davanti una bottiglia Che ho scritto Rifrei Che non è il portiere dell'Inter Due volte Rifrei No è un'altra roba Ok perfetto È un moscato d'asti Qualche tempo fa Abbiamo presentato l'asti spumante Che è lo stesso vitigno Perciò il moscato al 100% Che però fa la presa di spuma Questo invece è un prodotto diverso Perché è un prodotto Che non fa presa di spuma Ha una sua vivacità naturale Perciò rimane leggermente frizzante Ma come vedete Non ha il tappo dello spumante Va al tappo da stappare normalmente Con i cavatappi E ha una gradazione molto bassa Perché non supera i 6 gradi 6,5 o 7 gradi Questo perché Perché comunque Quando con la fermentazione alcolica Arriva a questo tipo di gradazione Viene interrotta Con un congelamento veloce Per fermare la fermentazione E per mantenere questo tipo di gradazione Lo mettono nell'abbattitore praticamente Esatto Una cosa del genere A livello alimentare Si potrebbe dire così Perfetto Questo è un prodotto Una delle eccellenze Sicuramente italiane Il moscato d'asti È conosciuto veramente Da tutte le parti Ed è un prodotto Che comunque Essendo a 6 gradi Lo possiamo far assaggiare Anche più piccoli Non a Giulio Ma ai ragazzini più grandi Sicuramente Essendo a 6 gradi È un prodotto totalmente Io intendo Tra i 15 e i 18 anni È un prodotto Che si può assaggiare Va bene Nicolò Nicolò ha un goccino Dai 8 anni Gli lo possiamo Ho un goccino Vabbè Giulio è ancora presto Anche se Giulio la mattina Vuole bere il caffè Quindi mi sembra che Insomma sia abbastanza Già lanciato Va bene Non lamentiamoci No Assolutamente Assolutamente no Allora La torta ve l'abbiamo data Abbandoni stamani È abbastanza in forma Evidentemente Ieri sera non è andato In Versilia Del Nero È in straforma Stamani ha anche La maglia della radio Perché finalmente Si è messo bene Si è messo bene E quindi il logo della radio Ce l'ha sulla maglia Solo per quello Va bene Grazie A chi ha curato La parte tecnica Stamani c'è la Luca Peronese Grazie a voi Per l'attenzione Pasticciando Con il bando Torna martedì Chi c'è Ale Martedì come ospite? Andiamo in Liguria Sì? Dove? Andiamo A un ristorantino Qua in Bocca di Magra Esattamente Ok perfetto Quindi siamo A cavallo Tra la Toscana E la Liguria A Bocca di Magra E va bene Martedì restate incollati Alla radio Perché alle 10.30 Torna il bando Con il secci Ogni settimana Martedì e il giovedì Con tanti ospiti Ciao Nicola Fai a modo Buon weekend Ciao Buon settimana a tutti Ciao 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 Radio Nostalgia Vi ha presentato Pasticciando con il bando